Per il 14esimo anno consecutivo Brescia saluta la partenza della 500 Miglia Touring, la manifestazione ormai tradizionale d'auto d'epoca che porterà vetture d'altissimo valore storico in un percorso culturale ed enogastronomico attraverso le strade e i luoghi più belli del nord Italia. 14 anni, 14 edizioni direi che sono significative perché un evento quando arriva con questa età, con questi anni di organizzazione ha già la maturità necessaria per far sì che poi si dica un evento importante da tenere di riguardo. Mi fa piacere perché alcuni enti, tra cui Milano, Brescia, Trento, cominciano a vederlo come un evento che organizzi, o meglio rappresenti, il territorio. La partenza secondo tradizione verrà proprio da Piazza della Loggia, il centro storico di Brescia, questo venerdì 13 aprile con le auto disponibili per la punzonatura già dalle 10 del mattino. È una manifestazione di valorizzazione turistica, unisce la passone per l'auto, la moto storica, quindi una passone sportiva, con l'esplorazione vera e propria di luoghi, borgate, paesi, paeselli, frazioni, spesso dimenticati dalle rotte turistiche principali. Quindi merita questo riconoscimento perché in questi 14 anni, che sono tanti, ha contribuito veramente a riscoprire tanti bei luoghi nella nostra regione, non solo. Nata e cresciuta con la formula Touring, la manifestazione si differenzia proprio per il suo carattere ludico e la sua volontà di riscoprire gli angoli più nascosti e meravigliosi del territorio. Ben quattro le regioni attraversate quest'anno, Lombardia, Veneto, Trentino e da quest'anno anche l'Emilia-Romagna. Molti anche gli equipaggi stranieri che si sfideranno sugli 800 chilometri in tre giorni. Un impegno severo per le vecchie signore della strada che rientreranno a Brescia domenica alle 18.30. Sì, ci stiamo espandendo anche oltre i confini del nostro bel paese. Abbiamo degli equipaggi che vengono dalla Svizzera con delle macchine tra l'altro molto belle. Una Air Mini del 51 e un'altra MG sempre del fine anni 40, primi anni 50. Abbiamo degli equipaggi che vengono dall'Austria, degli equipaggi che vengono dalla Germania per cui ci stiamo allargando e finalmente si accorgono anche gli stranieri della 500 Miglia Touring. Sostenuta anche quest'anno da grandi partner come Unicredit e Wave Group, l'edizione 2012 della 500 Miglia andrà incontro anche ai meno fortunati. Una parte del ricavato delle iscrizioni sarà infatti devoluta all'associazione Ant Brescia in favore dell'assistenza domiciliare ai malati di tumore e prevenzione oncologica gratuita. Queste iniziative come la 500 Touring che noi non finiremo mai di ringraziare ci permettono da una parte di raccogliere fondi e dall'altra di divulgare il messaggio. Il messaggio che laddove ci sono problemi grossi, malattie gravi come un tumore in una casa dove c'è un ammalato che purtroppo ha questa malattia soprattutto in fase avanzata non deve essere abbandonato. Grazie all'Ant queste famiglie non vengono abbandonate.